E' arrivato il pilast, eccolo là, dopo lo becchiamo. Questo è? Questo è il puleto di quest'anno, Beniamino. Ah, Beniamino, bellino il nome. Fratello di Anacleto. Ma questo è quello visto vicino, appena nato? Sì, sì. Eh? Che è anasauro? Sì. Eh? Ah, questo Beniamino. Guarda l'Abellino, è. Cado piove ora. Vai di scudere, vai se non si bagna, non lo fa bagnare. E' uguale, tanto se fa super giudere, guarda. Guarda l'Abellino, è. Questo l'ho visto appena nato. C'ho anche le foto di storie. Allora debuta ad aprile. Vai, 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 non ti preoccupo, vai, vai. Vieni. Vieni. Se vuoi cosa accendibili le luci, se no siamo altissimi. C'ho cicciato. Ecco, Beniamino, questo l'ho visto appena nato, sì. Era un zaurino laggiù, fuori. Sì, sì. E' lui, è lui. Allora, portare. Vabbè, questo ce la fa, ce la fa tutte le storie, questo lì. Vabbè, ok, Beniamino.